Questo corso che vi sto facendo non l'altro è che è una riproposta di un corso su Udemy, se vi interessa poi vi do anche gli estremi, che costa anche un pochino di soldi che mi ero regalato l'anno scorso, un anno fa, poi non avevo mai trovato il tempo di farlo. E poi vi ringrazio a voi per darmi la possibilità di studiare questo corso, insomma, si stimola anche a me insegnandovelo, poterlo impararlo, così sto imparando anch'io a fare delle cose che non pensavo di saper fare. L'obiettivo del corso in particolare era di fare delle scene medievali, adesso qui vediamo, magari non è detto che ve lo ripropongo integralmente, ma l'idea è quella. Quindi siamo partiti con la prima sessione, supponendo di partire da zero con Blender, e quindi siamo partiti da una sedia fatta giusto per togliersi la paura dell'edit mode, object mode e queste cosine. E poi, se abbiamo fatto un secondo esercizio, in cui invece abbiamo fatto la famosa plizzata, che sarà stata probabilmente nei vostri sogni notturni delle ultime tre settimane. Il corso su Demi, probabilmente ancora, a parte che su Demi i corsi sono in offerta ogni 3-4 giorni, quindi se volete farlo, credo che forse ancora adesso, in questo momento è in offerta a 10 euro, però normalmente costa molto di più. Se volete poi vi do gli estremi, però direi che se siete qui da me, forse... Vabbè, chi di voi è più avanti in Blender può andare direttamente su quel corso. Invece chi è ai primi armi, forse è meglio che rimanga un attimino ancora qua. Allora, abbiamo detto, prima sessione, abbiamo visto sedia, abbiamo visto la palizzata, e abbiamo visto anche un'primissima texturizzazione di palizzata. Ah ok, se poi ci sono dei corsi interessanti, mettetele poi magari nel gruppo Facebook, e così magari le cercheremo di vederle. Ok, allora, l'argomento della seconda sessione, che è questa che stiamo iniziando oggi, è invece le texture. Ok, quindi l'argomento sono le texture. E in particolare, non le texture normali, ma tutta una serie di texture, che sono, diciamo, delle variazioni della texture. Sono praticamente quelle che si chiamano Normal Map, si chiamano le Haked Map, le Bump Map, poi ci sono le Specular Map, e insomma, ce ne sono un tot, ci sono anche le AO Map, insomma, l'obiettivo di questi primi minuti è di farvi, di togliervi, insomma, la paura dei nomi che sono associati a queste mappe, ma soprattutto capire che cosa sono. Ok? Allora, se mi seguite, io adesso apro una pagina web, che è quella che vi ho messo, anzi, facciamo così, apro direttamente il Google Classroom, andiamo un po', andiamo in Google Classroom, ok, questo, e andiamo sull'argomento, la topic attuale, 10 maggio, Textures, e now the editor. Allora, io ho fatto un video, di cui, se non l'avete già visto, come cercare Textures, Normal Maps per Blender, e ve lo consiglio, ovviamente, vediamo un po', copy link address, vabbè, adesso non sto neanche a mettervelo in chat, perché lo trovate lì, però vi metto un link molto importante, che lo mettiamo in chat, qui in Craft, e che è questo, diciamo, questo motore, che consente di vedere, allora, si chiama Normal Map, ma in realtà permette di vedere tutte le Textures, e in particolare, anzi, guardate un attimo prima quello che vi sto facendo vedere, e poi magari l'ho provato secondariamente per conto vostro. Allora, la domanda, come che state vedendo, il termo con queste tre vitre, anzi, facciamo così, mi metto, un po' se ce la farò, mi ricordo più come, ah sì, bello, vedete, sto facendo un po' di confusione, allora, volevo semplicemente mettermi la schermata di Second Life, di OpenSIM sulla destra, così se mi scrivete qualcosa me ne accorgo, e mi restringo un attimo la schermata questa, così vediamo, è solo che se la, ecco così, facciamo una cosa simile, va bene, allora, vi vedete tutti, vedete lo schermo con le tre cose, con le tre immagini, sì, allora, dunque, vediamo un po', allora, quello che vedete sulla sinistra è una texture di partenza, e, anzi, facciamo così, mettiamo come texture di partenza questo qui che è un brick, brick vuol dire mattoni, e, dunque, facciamo così, togliamo tutto, ok, la cosa che avete sulla destra è un cubo, in cui noi visualizziamo, che gli diciamo di visualizzare, quindi la prima cosa che gli visualizziamo, è semplicemente la texture originale, questa qui è la texture, che rappresenta dei mattoni, e che gliela carichiamo, ok, questa texture, ok, quindi vedete che la texture appare come, apparirebbe una texture molto piatta, no, quindi questa texture in cui ci sono semplicemente i colori, viene chiamata diffuse, diffuse vuol dire, vabbè, un termine in realtà che deriva dall'ottica, dice più o meno come l'oggetto riflette i colori, quindi come si colora fondamentalmente, quindi quando noi parliamo di diffuse, intendiamo un oggetto che semplicemente si limita a restituire una serie di colori, no, ed è quel modo diciamo che anche nei mondi virtuali si usa normalmente, spesso per presentare gli oggetti, ma in realtà noi, soprattutto con questa sessione, stiamo parlando di bene altre caratteristiche dell'oggetto, possiamo smettere un attimino di ruotare, e le caratteristiche che ci interessano dell'oggetto, sono anche informazioni sulla sua rugosità, vedete che fatto così sembra finto, perché sembra fatto di plastica, mentre invece i materiali effettivamente presenti, quelli che avete di fronte tutti i giorni, alcuni sono lucidi, ma altri sono rugosi, altri hanno delle scanalature, come in questo caso, questo muro di mattoni ha degli spazi in rilievo, dei pezzi che sono sia in rilievo che scolpiti in profondità. Allora queste informazioni vengono, cominciamo con le informazioni del rilievo, le informazioni del rilievo vengono normalmente inserite con la normal map, ma anche con la displacement, sono queste due, però la normal map, quando io parlo di normal map, nelle vostre testoline, dovrebbe comparire automaticamente un'immagine più o meno viola, quindi normal map uguale immagine viola, viola o blu, viola blu, non so se le mie percezioni del colore magari sono anche diverse dalle vostre, di che colore la vedete questa immagine qua? Mi sentite sempre, sì? Ok, lì là. Ah sì, è vero che un'altra volta avevo anche, fatta una domanda, erano usciti dei colori interessanti. Ok, allora, nel momento in cui avete una immagine normale, questo è il programmino qua, allora, chi è arrivato ultimamente? Indeco, bello Indeco, non saprei dire assolutamente che colore è, voi mi garantite che questo va bene, allora, qualcuno dice magari, o qui in chat, o in IM, a chi è arrivato adesso, insomma, l'indirizzo web, e lo screen leap da seguire, così io posso andare avanti, ok, allora, ora, quindi io per vedere semplicemente la texture diffuse, l'ho dovuta caricare, ciao Anna, Anna Maria, allora, io ho caricato semplicemente l'immagine diffuse, quindi ho dovuto fare il load, e ho caricato l'immagine, però, per vedere l'impatto delle normalità, qui, in realtà quando si entra all'inizio è già abilitato, io adesso li ho spenti tutti, per farvi vedere un pezzo per volta, quello che fanno, quindi se io adesso clicco su normal, non so se vedete cosa è successo, sulla rappresentazione a destra, ma vedete che è diventato, è passato da una rappresentazione piatta, a una rappresentazione, in cui invece, i mattoni sono, se ci avviciniamo, sono fin troppo, per dire il vero, definiti, nel senso che sembra addirittura cioccolato, perché sono state amplificate, praticamente, molto, le imperfezioni, che ci sono normalmente, sui mattoni, quindi in realtà, questa normal map, che ci carica, cioè questa immagine qua, è stata costruita automaticamente, da questo sito web, nel momento in cui gli abbiamo messo, la nostra texture diffuse, quindi in pratica, le normal map, possono essere calcolate, a partire dalle diffuse, però notate, ecco ve lo dico giusto, per informazione, questi programmi qua, che fanno questo mestiere, che c'è appunto, questo normal map online, ma c'è anche un crazy bump, sono anche programmi, che costano l'ira di dio, ad esempio, io sono a un passo da comprare, credo non mi ricordo come si chiami, crazy bump, che però costa sui 100 euro, però mi sembra che 100 euro, sia forse un pochino troppo, per una cosina del genere, quindi, ce lo terranno così, e io userò questo cosino qua, ecco, praticamente cosa fanno, loro applicano un, vabbè dipende, sì però notate che, non è che il risultato sia, ah dipende da cosa offre, lui fa quel mestiere, che stiamo vedendo adesso, ma in più è molto più ben fatto, nel senso che permette, di controllare molto meglio, di vedere molto meglio gli effetti, e quindi è estremamente più comodo, mi dicono, Edo dice che sono anche altri, ma anche shader maps, non vado errato a pagamento, comunque ce ne sono diversi, ma ce ne sono anche di open source, addirittura mi sembra che si possa anche fare, sì però mi sembra di aver visto, che fa anche leggermente di meno, comunque, anche Gimp volendo, si può usare in questo modo qua, anche se è un pochino più complicato, Gimp o Photoshop, possono fare alcune cose di questo tipo, però, l'idea che volevo dirvi, è che in realtà, la vera normal map, di solito, per essere professional, dovrebbe essere fatta, con dei sistemi, molto sofisticati, quindi sono proprio, delle specie di macchine fotografiche, quindi magari, si fotografa effettivamente, l'oggetto, e si determina la normal map, valutando effettivamente, la sua superficie, quindi è una cosa, abbastanza complicata, cioè non è così facile, come lo vediamo qua, quindi normalmente, quando si trovano in giro, delle normal map a pagamento, cioè proprio, quando vi danno la foglia, per dire, e poi vi danno anche, la normal map della foglia, di solito, queste cose qua, sono costruite così, o anche a mano, ma in modo tale, da avere una resa, molto realistica, quindi sono veramente belle, quando si usano questi programmi, che calcolano automaticamente, queste texture, in realtà si ottiene, una sorta di emulazione, cioè non è la cosa perfetta, però visto che, soprattutto nei mondi virtuali, e anche nei videogame, perché noi qui stiamo lavorando, cioè i mondi virtuali, i videogame, il fatto che poi, il muro, non sia perfettamente, reale, ma sembri reale, certo, si può, infatti adesso in questo caso, l'effetto è brutto, però noi possiamo controllare, la strength, ad esempio questa qui, è sinceramente troppo forte, quindi se noi, per esempio, riduciamo lo strength, abbiamo già, un risultato, un pochino, più, realistico, nel senso che vedete, il mio ridotto, praticamente quasi a zero, e comunque, vedete che l'effetto, è molto, è molto migliore, noi adesso, ai fini della didattica, ve lo sto facendo vedere, molto pronunciato, la diffusa, mettiamo, la normal, però di solito, in tutti i corsi di Blender, si dice sempre, di usare sempre, le normal map, al minimo possibile, perché devono dare, sì, la sensazione di realtà, ma una sensazione, non eccessiva, cioè che non stoni troppo, quindi si usano sempre, dei parametri molto piccoli, di solito, quindi per esempio, si va su 0,201, solo che, l'unico problema, è che, per noi, che stiamo imparando, a volte, vedere la differenza, di una normal map, non è facile, quindi in realtà, le normal map, quelle più corrette, cioè quelle che sono, danno risultati migliori, sono normal map, che sono tendenzialmente, tutte di questo colore, cioè che hanno, pochi sbalzi, nel colore, quindi sono tendenzialmente, molto blu, infatti voi vedete, che aumentando la forza, più diventa forte, e più, i colori, arrivano all'illà, oppure addirittura, al verde, al rosso, e questi non vanno bene, quindi tendenzialmente, rimaniamo sempre, nell'area blu, indaco, ok, ora poi, qui non vi sto, di tagliare, cosa significa esattamente, una normal map, nel senso, gli effetti, si percepiscono, allora, gli effetti, si percepiscono, su open sim, adesso purtroppo, su queste cose, di queste foglie, si vede un po' poco, però, se vedete, alcuni dei video, che ho pubblicato, si può vedere, un po' di cose, ma, non si vedono moltissimo, comunque, per vederle su open sim, o su second life, l'unica cosa, che dovete fare attenzione, è di usare, il cosiddetto, ALM, cioè, advanced, advanced light model, se non, non ce l'avete, e ve lo faccio vedere qua, questo qui, è il, il vostro firestorm, suppongo, che quasi tutti di voi, abbiano il firestorm, ma comunque, il concetto, si applica anche, agli altri viewer, facendo, ctrl P, e andando su graphics, vedete, che a un certo punto, c'è, advanced lighting model, ora, se voi, in circostanze normali, questa opzione, per i vostri computer, potrebbe non essere, selezionata, quindi dovete, cliccarla, e aspettare un attimo, che si selezioni, una volta, che si è selezionata, poi ricordatevi, di fare l'ok, e a quel punto lì, siete, nella modalità, ALM, poi, altra cosa, per poter vedere, effettivamente, questo, questo tipo di cose, occorre, essere, in, in una situazione, in cui ci sono, delle luci, che arrivino, con incidenza, parallela, quindi, arrivano lateralmente, quindi, di solito, alla luce del sole piena, oppure, di notte, completa, senza luce, non si vedono, molto, questi effetti, ma, se lo fate, in, una situazione, di, di luce radente, invece, si vedrebbe, un po' meglio, potremmo, se avete voglia, possiamo fare una prova, cioè, prendiamo questa normal map, che abbiamo fatto qua, queste due immagini, e, le, questa qui, la scarichiamo, ok, quindi, normalmap.png, la mettiamo, solo da un loss blender, ok, e poi qua, vediamo un attimo, se riusciamo a mettere, questa normal map, in, un, in un cubo, che creiamo qua, quindi, facciamo solo un esempio, quindi, prendiamo un cubo, che è questo, ad esempio, magari lo, amplifichiamo un pochino, ok, in modo tale, che sia, un pochino, grosso, ok, e poi facciamo, un bel, un bel, dove era, build, upload, scarichiamo, queste immagini, quindi, andiamo sotto, di, download, blender, ecco, ci scarichiamo, questa immagine, brick, ok, e poi, ci scarichiamo, anche, la norm map, corrispondente, quindi, vediamone, effettivamente, qua, upload, ok, così, vi insegno, anche, come si fa, non mettere, le norm map, su, su, open sim, quindi, il cubo, normale, non è neanche, fatto con blender, e quindi, abbastanza, diciamo, appunto, molto semplice, andiamo, nelle texture, e, nella texture, ci mettiamo, il brick, appena caricato, ok, adesso, ci impiegherà, un pochino, di tempo, quindi, non so, perché, c'è, craft, diventata, un pochino, lentina, a caricare le texture, vediamo, voi, per caso, la texture, del muro, in, ah, ok, è arrivata, anche qua, quindi, vedete, che abbiamo messo, praticamente, comincia, a comparire, ok, vedete, che abbiamo, la texture, del muro, quello che, prima, allora, per mettere, la normal map, bisogna, nelle caratteristiche, del cubo, andare, nella, bumpiness, avete, bumpiness, o anche normal, e qui, ci infilate, proprio, la normal map, che abbiamo fatto, e qui, dovremmo fare, la stessa scena, cioè, aspettare, un altro, 10 secondi, 10-20 secondi, per vedere, vedete, che ho semplicemente, trascinato, la texture, vedete, che è cambiato qualcosa, e tra l'altro, faccio, per, per, per vederlo, un pochino, più chiaramente, ci metto, qua dentro, uno script, di rotazione, se lo trovo, rotation, ok, ok, questo script, di rotazione, praticamente, dovrebbe, far ruotare, il cubo, ok, adesso ruota, praticamente, un golasse, lì, però l'idea, è che, il cubo ruota, no? Ora vedete, che mentre ruota, si vede, abbastanza, bene, che sembra, tridimensionale, no? Perché si vede, il, il, come si chiama, questa specie, di intonaco, che, che sembra sporgere, ok, io non so se voi, lo vedete, nel vostro, nel vostro viewer, lo vedete? Sì, avete messo, advanced light mode, comunque, vi faccio vedere, la differenza, anche qua, nelle texture, se togliamo, nel bumpiness, se gli togliamo, la bumpiness, vedete che, rimane, molto, più piatto, così, adesso glielo ho tolto, se gli metto, la normal map, vedete, gli ho messo, vedete che, aumenta, l'effetto, tridimensionale, ok, mi piace, questa piccola, dimostrazione, della normal map, quindi, ecco, giusto, per dare, un'idea, la normal map, in realtà, è un trucco, è un trucco, le texture, diventano, molto belle, molto più realistiche, ma adesso, vediamo, che, c'è un ulteriore elemento, di realismo, che noi, possiamo fare, aggiungendo, la specular map, c'è qualcuno, che sta digitando, tra l'altro, in questo momento, non abbiamo neanche usato, blender, quindi, potete usarle, tranquillamente, per tutto ciò, che non è blender, blender, però, ve l'ho fatto vedere qua, perché, secondo me, vedere coi propri occhi, no, ha un certo fascino, no, perché poi, uno lavora con blender, sembra che faccia, delle cose strane, eccetera, ecco, vi faccio notare una cosa, abbiamo migliorato molto, però, ci sono delle zone, del cubo, che, ci appare tutto, fondamentalmente, non riflettente, ecco, questa è l'idea, cioè, in realtà, all'atto pratico, nella vita reale, le piastrelle, queste qui potrebbero essere, dei frammenti di piastrelle, che sono, o di mattoni, che magari hanno, delle componenti, umide, no, tipo, ci può essere un po' di umidità, che fa riflettere, fa riflettere la luce, però, così non le vediamo, quindi, come facciamo a far venire, delle riflessioni, abbiamo bisogno, quindi torniamo sul nostro, sul nostro, compositore di mappe, di definire quello che è una specular map, allora, la specular map, è una, un'immagine, che è tanto più bianca, quindi, allora, le normali abbiamo visto che sono tipo blu, blu, lilla, insomma, le specular map, sono delle immagini bianco e nero, che dicono, sostanzialmente, dove c'è il bianco, riflette, la, 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 la luce, no, invece, dove c'è le cose scure, si ha, fondamentalmente, la non riflessione, quindi, adesso la strength è 1, però, se noi facciamo così, vedete che possiamo renderla, in modo tale che riflette, poco o molto, sempre come abbiamo visto prima, e qui ci sono, gli altri, c'è altre caratteristiche, per esempio, qui si può invertire, ad esempio, questa qua inverte, e fa riflettere, soltanto i mattoni, e non le venature, quindi, vedete che così, facciamo riflettere, le intersezioni fra i mattoni, allora, mettiamo tutto 1, giusto per vederlo, al massimo possibile, quindi, in questa situazione, e se mettiamo anche la specular, vedete, quello, questo qui, non si vede molto, ma se la facciamo ruotare, dovreste vedere, vedete che mentre faccio ruotare, che certe zone, riflettono, anche se non si vede, incredibilmente, ma comunque, ci sono, ci sono degli effetti, di più, proviamo a togliere la specular, ecco, si vede poco, comunque, il concetto è quello, cioè, le zone bianche, riflettono la luce di più, e le zone, nere, queste riflettono di meno, proviamo ad aggiungere, anche questo qui, environment, vedete, questo qua, permette di aggiungere, una luce, che rispecchia, chi è un ipotetico, environment, però qui, in questo caso, dà troppa luce, troppa riflessione, apriamo a ridurre, un attimo, e forse così, si capisce, leggermente di più, nel senso che, e così abbiamo messo, la luce environment, che vuol dire che c'è il cielo, eccetera, vedete che, qui riflette, cioè, si vede un pochino più, tutte queste imperfezioni, sono solo lungo le venature, no? Mentre invece, se io inverto tutto, le cose che riflettono, diventano i mattoni, in questo caso, diventa, vedete che, diventa molto lucido, il mattone, proviamo a farla senza environment, diventa, forse con environment si nota di più, quindi con il mattone, adesso diventa molto lucido, vedete, come se ci fosse dell'acqua sopra, non so se riuscite a vederlo, qui non vedo qua, riuscite a percepire, questo effetto acqua, umido, effetto, umido, dal mio avviso, ma funziona? Mi sentite? No eh? Ah, forse dovrebbe funzionare, perché non vedo le risposte qua, ah ok, sì sì, no perché c'è sempre l'angoscia di parlare al nulla, allora adesso, se avete capito più o meno qual è il concetto della specular map, prendiamo una specular map non troppo accesa, tipo questa che dà un effetto comunque riflettente, però comunque abbastanza con delle parti, aspetta, questo qua, vediamo cosa volevo fare, volevo fare che rifletteva di più dove c'erano i mattoni, ok, e poco sulle cose, intanto adesso sto un po' anche andando, vabbè, proviamo una specular map, così, che è abbastanza pronunciata, in realtà la specular map per essere serie non dovrebbero essere troppo bianche, perché troppo bianche vuol dire che riflette tanto, no? però prendiamo questa specular map da un load e la salviamo e la portiamo qui in, ecco, e la portiamo qui come abbiamo fatto prima, ctrl u, ci prendiamo la specular map, ok, la carichiamo, specular map e questa specular map la mettiamo qui dove dice shininess, shininess, prendiamo la specular map e gliela mettiamo, ok, adesso dopo i tre incontri di pragmatica, dobbiamo aspettare un po', devo poi chiedere a Liku come mai ci sta impiegando questi tempi biblici, anche voi quando fate l'upload su craft vi impiegando il texto, ok, dovrebbe essere arrivato, ok, allora, in realtà, vedete, non si nota moltissimo, non si nota moltissimo, per vederlo bene occorre essere innanzitutto di notte, questo è un po' il problema, quindi andiamo sul sun position, mettiamo la mezzanotte, quindi scuro, ok, e poi l'idea è quella di metterci una sorgente di luce più o meno sotto, quindi creiamo praticamente un cubo, il cubo lo facciamo nelle features, gli mettiamo che emette luce, la luce è tanto più radente e tanto più in realtà dovrebbe riuscire a far capire questo effetto, però deve essere magari radente, abbiamo detto, quindi la mettiamo, ecco qua, dobbiamo mettere sufficiente vicino per ottenere l'effetto di luce radente, ecco, a questo punto quello che si dovrebbe vedere, ecco col buio si vede bene, ecco con la luce radente così si dovrebbe vedere che riflette un pochino di più, attenzione, questo succede sempre, sempre, solo con l'Advanced Lighting Model e impostato, ok, proviamo a vedere se adesso prendiamo questo oggetto e proviamo a togliergli il dunque ah no, shininess alla fine non si vedeva perché allora la texture questa è il happiness la shininess in realtà non l'aveva presa ecco perché non si vedeva la riprendiamo specular map la mettiamo ecco adesso si vede prima non l'aveva presa non so perché adesso si vede quindi se io lascio il il coso ecco vedete che adesso qua si vede un pochino meglio che c'è un po' di riflessi anche se non è che si vede proprio in maniera incredibile infatti da questo punto di vista OpenSIM Second Life un pochino mi aveva deluso perché mi aspettavo quando sono state inserite mi sembra nel 2014 le normal map le specular map mi aspettavo miracoli e invece non dunque mi sento niente amore che dopo ctrl p si è bloccato vedete ah beh è strano che si sia bloccato il pc comunque c'è l'idea più realistica in mattone comunque adesso io non volevo farvi tutte le rave e le fave sul specular map o le boom map però volevo farvi darvi diciamo una visualizzazione tangibile di quello che è e per averla un pochino più tangibile ancora magari vi faccio vedere cosa succederebbe con se ce la faccio ecco vi faccio vedere la differenza ok ecco questa immagine che vedete qua è un'immagine di una sorta di basso rilievo non so se si sente racconto eccetera e l'idea è quella che se questo vedete produce una normal map che se noi applichiamo al nostro oggetto dà l'idea che sia scavato no nell'oggetto cioè che l'oggetto sia scavato con inciso e analogamente qui se mettiamo dunque qui c'era senza specula con le specula insomma ci sono le varie opzioni e poi abbiamo anche la o solo per dirvi qualcuno mi aveva chiesto qualche tempo fa anche le ambient occlusion le ambient occlusion che sono queste sono un sistema di ombreggiatura automatica l'ambient occlusion è questa qua vedete che fa come ripassa tutti i bordi con un'ombreggiatura in maniera tale da dare quell'effetto tipo il Trump Day non so se avete presente lo stile che c'era in Francia nell'inizio dell'ottocento in cui riuscivano a fare tutte le ombreggiature sui quadri in modo tale da dare la sensazione della tridimensionalità avete presente? ecco diciamo che l'ambient occlusion è un trucco simile che viene usato per dare il senso della profondità spaziale ma sempre come Trump Day quindi non è una normal mappabla è una cosa che si usa tra l'altro in Second Life viene molto usata per i vestiti e per le magliette per le vestiti da donna insomma tutte queste cose qua quindi questo è diciamo il primo la prima cosa che vediamo va bene allora io dunque questo primo inciso vi domando vi è utile insomma se vi è stato utile insomma per capire quello su cui state lavorando questa settimana queste tre settimane si sistema tutte le mure di Azeroth si allora la mia idea è quella che durante queste lezioni non ripeto completamente quello che ho fatto nei video perché se no basterebbe che vi dica guardate i video no anzi ve lo dico guardate i video però era solo per darvi comunque uno stimolo in più per eventualmente fare poi queste cose con durante queste tre settimane invece quanti di voi hanno provato a guardare qualcuno di video che ho fatto per la seconda sessione ok wow quindi diciamo che aspettate vi contiamo un attimo quindi siamo in 27 ok allora diciamo che una beh diciamo metà no però un po' di voi hanno cominciato a giocarci no fra quelli che hanno cominciato a giocarci ci sono delle cose che vedendo il video vi sembrano i video che avete visto vi sembrano non chiare che magari possiamo sfruttare questa lezione per per migliorare o correggere addirittura perché io magari faccio i video e l'effetto video è che magari a volte faccio le cose anche errate ecco come dice Gigliola registrate la vostra presenza dov'è il posto dove si registra Gigliola già lo indichiamo per quelli che aspettate adesso va tutto lento quindi mettiamo togliamo ecco l'advanced lighting model è una cosa un po' delicata nel senso che bisogna avere un hardware molto forte perché se no ruba molto più quindi fa un po' di lag infatti dove sono dovuto toglierla allora alle mie spalle abbiamo il registratore quindi registriamo quindi vi invito a tutti a cliccare su questo oggetto ok in modo tale che questo è uno script che ha fatto Sib che registra tutte tutte le presenze così sappiamo quanti siamo ah che bello ah no questa è la foglia che avete che c'è questo effetto questo è un bacco di second life che è da anni che circola non mai corretto va bene dicevo a dove cliccare per le presenze e dove c'era dove ero io prima qui dove c'è questo cosino bianco vedete questa specie di cippo con il libro bianco sopra dove sono io adesso c'è proprio scritto registro presenze se ci siamo sia io che Giliola bisogna fare il click sul bisogna fare il click sul proprio sul registro ok ok la terza volta dicevo quei 5 6 7 che mi hanno detto che hanno visto e hanno fatto la sfera mi dite se avete trovato delle difficoltà o delle cose che volete chiarire domande o anche sulle cose che ho detto poco fa è tutto chiaro come funziona per chi ha seguito ovviamente questi video ok quindi il modo in cui le ho spezzettate non ci sono problemi grossi non so se volete possiamo provare a fare se volete approfittiamo ancora di questa mezzorata che rimane per fare una cosa tipo questa anche del muro non so se volete o quello che stavo impostando qua di questo basso rilievo per vedere come diventa su blender quindi possiamo provare a vedere di texturizzare un piano semplicemente una cosa molto semplice tra l'altro prima di andare vediamo brevemente anche il wrangler tra l'altro wrangler io non sapevo neanche cosa volesse dire a me veniva in mente sempre un paio di jeans non so perché a voi cosa vi diceva la parola wrangler i jeans ecco no perché poi ho scoperto che wrangler credo che sia proprio il mandriano e quindi credo che ci sia stata una marca di jeans che abbia fatto pubblicità dei mandriani come per dire questi sono quelli che hanno bisogno di jeans diciamo di pantaloni particolarmente robusti per gestire insomma per stare a cavallo e gestire le mucche no allora io apro allora il mio blender lo apro un pochino ampio ok e poi vediamo le cose base che forse dai video non si vedono benissimo cioè beh innanzitutto a tutti voi vi è chiaro come vi è chiaro abbastanza come si fa ad aprire le varie finestre che vedete che io faccio nei video con i triangolini perché io spesso faccio questo trucchetto che è quello proprio di prendere l'angolino in alto destra abbassarlo oppure tirarlo a sinistra per spezzare in n posti ok questo è un trucco che credo che sia sembrato molto bello a chi l'ha creato sembra abbastanza carino però forse ai newbie secondo me forse molti di voi sono e anch'io stesso un po' non entra molto in testa perché poi devi andare prenderlo a me poi io volevo ad esempio andare a sinistra invece sotto invece mi è andato insomma non sempre fa quello che mi aspetto che faccia comunque l'importante è che lui divida la nostra scrivania in altre cioè fa delle coppie delle scrivanie quindi una di queste scrivanie le teniamo nella modalità 3D che è quella in cui vediamo fondamentalmente il nostro oggetto e questo oggetto tipicamente lo si dunque vediamo vedete va dove vuole il più no il più è un'altra cosa cioè il più è la parte che promette di aprire quello che io chiamo la costola che c'è sotto mentre invece qui non dovete toccarlo il più se andate sul più vedete che compare questa freccia se invece andate sul posto giusto compare ah il più quello dici sì certo il più questa croce questo mirino cioè praticamente quando diventa un mirino allora è giusto sì sapete che lo sapevo istintivamente ma ce l'ho fatto caso ok allora il cubo che mettiamo qua teniamo il cubo così facciamo non stiamo lì a fare tante cose e dunque qui sulla sinistra ci mettiamo uv image editor quindi mettiamo le immagini e sotto ci mettiamo invece il famoso node editor ok allora il node editor vedete che inizialmente è vuoto anche perché dobbiamo ricordarci di andare in cycles detto cycles sì togliamo sta costola allarghiamo un po' qua quindi vi ricordate che abbiamo detto di fare l'uvimap insomma del cubo quindi per fare l'uvimap dobbiamo essere in edit mode e poi facciamo u e facciamo ma anche adesso non so se l'uvimap fatto così funziona sì ecco l'uvimap così praticamente fa in modo tale che ogni faccia è sovrapposta sull'immagine in pratica è una delle uvimap possibili di un cubo in questo modo non appena mettiamo un'immagine qua verrà replicata in tutte le facce del cubo e questo lo possiamo vedere andando qui in open e apriamo fondamentalmente sotto il facciamo di downloads blender ok e ci prendiamo la vabbè prendiamo anche l'immagine che abbiamo preso prima quella del i brick cominciamo con il brick open image abbiamo il brick quindi vedete che abbiamo messo il nostro brick che è questo muro faccio una domanda ai presenti qui se avete seguito anche soltanto la prima sessione dovreste saperlo come faccio a vedere dentro il cubo se è texturizzato bene cioè che appare veramente il la nostra il nostro muro dei mattoni ci sono vari sistemi uno è quello di fare render questo e poi render image sicuramente è un modo per vederlo che però manca qualcosa ecco vedete che in realtà me l'ha fatto vedere questo è il render di questa cosa quindi vuol dire che abbiamo scusa cos'è che abbiamo abbiamo dimenticato di fare in realtà io di solito faccio un altro piccolo trucco nel senso vado in 3d e poi essendo in 3d come ha detto qualcuno prima uso la modalità rendered qua sotto che me lo fa vedere in tempo reale allora il materiale manca quindi per mettere il materiale qui dobbiamo aver selezionato il nostro pezzo tra l'altro qui possiamo anche essere in object mode e poi gli diciamo use nodes ok e poi qui nella colore possiamo dirgli colore nel pallino se non ce l'ho mai image texture e poi nella texture gli mettiamo il brick e quindi vedete che a questo punto abbiamo il nostro il nostro cubo ok che qui è un pezzo che abbiamo visto negli esercizi avevo anche fatto vedere negli esercizi che per vederlo meglio si può prendere la lampada e dire che la lampada in realtà più che lampada point facciamo una lampada di tipo sole sun e poi anche qui gli diciamo use nodes e qui gli mettiamo un valore un po' più alto tipo 5 ok quindi si mette si vede diciamo il nostro oggetto ah poi una cosa che forse non ho detto nei video ne approfitto per dirlo qua vedete che quando mi muovo con il mouse centrale succede una cosa un po' strana nel senso che si muove adesso si sta muovendo attorno alla lampada quindi dovrei prima di tutto fare il tasto destro e selezionare il cubo e poi a questo punto lui si muove attorno al cubo quindi se vedete che con l'orbiting cioè con il tasto destro centrale il tasto centrale del mouse e poi muovendosi quello che chiamo orbiting vedete che si orbita in un modo strano andate prima di tutto a vedere di non aver selezionato un oggetto diverso dall'oggetto che vi ti interessa tra l'altro questo qui è proprio il cubo ma io facendo doppio clic qua posso cambiare il gnome e questo diventa il muro ad esempio così c'è scritto muro e me ne accorgo se sto cliccando qualcosa che non è il muro non so se avete seguito questo questo piccolo trucco di rinominare l'oggettino e di accertarsi insomma che abbia un nome decente umano e via di questo passo ma poi cosa abbiamo detto no niente mi ho messo la luce ah no ecco una cosa mi sto già dimenticando quindi nelle user preferences controllate solo un attimo che nell'interface ci sia scritto rotate round selection cioè che ci sia la spunta in questa opzione perché se non c'è lui ruota attorno al pivot il pivot sarebbe quella il pivot sarebbe la funzione drag and drop ma forse in qualche addon c'è qualcosa del genere ma sì il pivot sarebbe questo punto qua dove ah quello lì vedete questa cosa qua che è praticamente un cerchio bianco e rosso quello è il pivot quindi se per caso non è impostato bene lui ruota attorno al pivot che se il pivot è vicino all'oggetto vi va bene ma se il pivot è lontano dall'oggetto mi sembra di non riuscire a controllarle quindi il trucco che vi spiego adesso è quello di controllare sempre il rotate round selection che sia settato perché almeno a me mi mi dà meno confusione e poi vi ricordatevi una volta che l'avete fatto una volta fate save user settings in modo tale che le prossime volte se lo ricordi e non dovete dirlo voi tutte è sicuro che se se uno non ha questa piccola avvertenza poi gli sembra che Blender lo lo prenda un po' per il sedere insomma si sembra di aver perso il controllo dello strumento cioè si imbizzarisce ok allora dunque rifacciamo un po' il giro quindi abbiamo visto tutto tranne la sfera ok comunque è chiaro questo questo modo per orbitare attorno proprio all'oggetto tra l'altro vedete che qui questo cubo è un po' brutto quindi ricordiamoci sempre 5 e il tastellino numerico che magari non è prospetticamente corretto però è più è più anche qui è più facile da modellare no? quindi 5 ecco allora noi andiamo adesso a introdurre le altre texture con le tecniche che ci sono nel nel nei video che vi ho dato no? quindi andiamo fondamentalmente qui lo facciamo magari la visualizzazione rendered la mettiamo qua qui mettiamo rendered ok ma qui però potremmo anche starci il 5 così la si vede no pare bruttino facciamo così ok quindi questo qui è il nostro cubo insomma eccetera e qua sotto invece andiamo sui node editor allora quando impostiamo il node editor abbiamo qua sotto la situazione classica che è la più semplice la più semplice texturizzazione possibile quindi la texturizzazione avviene fondamentalmente mettendo dentro questo nodo terminale che è il risultato di ciò che vogliamo che cosa uno shader gli shader sono questi oggetti che generano fondamentalmente delle linee verdi quindi gli shader sono qualche cosa che può fare adesso probabilmente soltanto o la diffusione quindi abbiamo messo un shader che diffonde quindi dà solo il colore poi c'è uno shader che dà anche il colore mentre invece le normal map sono di solito messe attaccate qui dove c'è normal oppure in realtà in alcuni video trovate che le normal map vengono anche messe qua su displacement no? qui ecco una cosa che troverete spesso in blender è che a volte la stessa cosa viene fatta in più modi diversi no? con risultati quasi uguali ma diversi insomma questo a volte può provocare un po' di confusione quindi il sistema che vi ho insegnato io mette le normal qua no? la mette qui sul normal e quindi vediamo un po' questo sistema quindi come facciamo? beh innanzi prima di fare le normal vediamo un po' lo shader ah scusate finisco soltanto l'ultimo nodo mi sono dimenticato che è il nodo questo dell'immagine quindi l'immagine lo mettete qua e quindi ci avete il vostro nodo a posto mettiamo un un nodo invece che faccia la riflessione un glossy si chiama ecco questo è un termine inglese quindi facciamo add e andiamo sullo shader e poi cerchiamo il glossy ora se voi siete come me tra l'altro confondete tipicamente confonderete il glass a quel glossy si si tutti quelli che sono sotto shader sono tutti shader tranne si generano comunque degli shader c'è anche uno shader che genera i capelli per dire la notazione bsdf è secondo me confusionante è un modo un termine diciamo di shader che viene generato allora glass e vetro glass e proprio vetro mentre invece glossy è quell'effetto che in inglese è quello che si vede sulle superfici tipo plasticose cioè quelle che riflettono la luce un po' come la plastica lucida avete presente ma se vogliamo possiamo ma tra l'altro non ho mai la traduzione esatta di glossy italiano traduzione italiana vediamo un po' cosa mi dice con esattezza allora patinato dice lucido però io preferirei la traduzione lucido perché glossy sulla carta vuol dire patinata ma shiny quindi credo che lucido sia la cosa giusta lucida labbra allora mettiamo uno shader qua e lo facciamo con add shader e poi glossy ecco quello che dicevo se voi siete come me che mi dimentico dove è quindi posso più la vita a cercare qua dentro qual è il gruppo in cui è ricordate che c'è sempre la search quindi fate search e cercate qui se volete un glossy cercate gloss e vi dà subito il vostro il vostro nodo ok a questo punto compare un piccolo problema nel senso che questo glossy dovreste metterlo come surface no? però se lo mettete quello che succede è che perdete il diffuse perché qui ce ne sta uno solo qui ce ne sta uno solo io o ci metto il glossy oppure ci metto il diffuse allora come si fa a fare in modo tale da mettere tutti e due i shader insieme sul surface chi ha visto i miei video forse se già la soluzione ecco mix shader bene allora c'è il mix e il shader attenzione che ci sono due tipi di mix quindi voi se fate il search e cercate mix vedete che c'è il mix shader e mix rgb quindi attenzione a usare il mix giusto allora il mix che ci interessa a noi è il mix degli shader questo quindi lo portiamo qui lo mettiamo lì e vedete che a questo punto possiamo mettere vedete che abbiamo messo sia l'effetto luccicante vedete che sta luccicando il mix rgb serve per mischiare i gialli i colori fondamentalmente degli oggetti quindi così voi avete fondamentalmente un oggetto che sta mischiando un qualche cosa di diciamo che sono di colorato quindi colore diffuso con qualcosa di luccicante e il luccicante adesso è molto monotono perché vedete che se io gli tolgo questo oppure anche modifico il fattore fattore se lo metto tutto uno da completamente il secondo input che peraltro non è neanche tanto luccicante in realtà per vederlo bene questa cosa qua bisognerebbe avere abbiamo visto l'altra volta una sfera perché dipende da come gli si riflette la luce sopra quindi l'effetto bello massimo si tiene con la sfera quindi magari facciamo così lo seleziono questo cubo cancello e voi dite è sparito tutto no attenzione ho fatto sparire l'oggetto ma il materiale vive di vita sua quindi in realtà non abbiamo perso il materiale c'è ancora il materiale è ancora lì e quindi lo posso riprendere con qualunque altro oggetto quindi in teoria potrei fare un unico materiale e poi avere 2000 oggetti che condividono quel materiale non so se ci avete ecco è una cosa che ho notato nei compiti che avete fatto nella prima sessione ho notato che almeno un paio di voi per fortuna pochi comunque avevano fatto un materiale distinto per ogni asse o pezzi di asse non so se vi sentite forse ve l'ho anche detto nella correzione dei compiti ecco quando il materiale è proprio lo stesso su cui eventualmente cambia soltanto la UVMAP conviene in realtà riciclare lo stesso materiale invece di creare uno nuovo comunque adesso creiamo Shift A quindi noi prendiamo selezioniamo qua facciamo Shift A e facciamo Mesh e ci prendiamo la UVSphere questa visto che non c'è voglia di fare la UVMAP gliela faccio generare da lui da solo così genero una UVMAP che magari non è quella che vorrei in una situazione reale ma almeno per per semplicità adesso potrebbe anche andare bene no? e poi magari se lo voglio vedere un pochino più meno a quadratini faccio anche lo smooth vedete che abbiamo una sfarella ok? questa sfarella vedete che adesso non ha il materiale quindi devo selezionarla andare sul materiale e poi gli seleziono il materiale di prima e sono tornati i nodi e vedete che la sfera adesso è diventata come se fosse metallica perché è diventata metallica? perché in sintesi gli si è detto che il suo materiale il suo shader è per il 100% composto da questo fattore che è un glossy di cui non si sa bene qual è le parti riflettenti o meno se invece qua perché è tutto bianco quindi per riuscire a fare una parte una mappa riflettente devo metterci proprio la mappa una specular map no? quindi come faccio a mettere la specular map devo introdurre un'altra immagine quindi qui faccio shift D e tuplico l'immagine e in questa immagine gli metto la specular map che avevamo preso del muro quindi oppure anche qua possiamo farlo quindi anche qua possiamo qui abbiamo il brick che ti fa vedere come è fatto il brick e poi possiamo aprire qua e apriamo la specular map ok avendo la specular map questa possiamo impostarla qua clicchiamo gli mettiamo la specular map del nostro muro mi mettiamo il colore qua e vedete che è parso in pratica c'è parso come se ci fosse il muro non so se lo vedete però in realtà non c'è il muro c'è soltanto un insieme di informazioni di riflesso quindi in sintesi quello che è successo è che noi abbiamo semplicemente messo che alcune parti del muro riflettono di più di altre e così implicitamente abbiamo fatto un muro anche se non c'è la testa del muro ma se noi vogliamo far riapparire la testa del muro basta che diciamo questo mixer di rimettercela quindi se lo facciamo così a metà abbiamo sia la texture sia il shader diffuso questa lo faccio vedere solo con il diffuse vedete che con il diffuse non c'è nessuna riflessione se invece aggiungiamo soltanto la specular c'è solo riflessione e la cosa che ci interessa è averli tutti e due poi a seconda di quanto vogliamo rendere riflettente il muro possiamo aumentare o diminuire anche qui chi lo fa in maniera professionale di solito non mette dei valori molto forti del glossy perché in natura un muro di solito non riflette così perché così riflettono i metalli ciao Fabrizio buonanotte ma comunque adesso il giro ne abbiamo ancora per un 10 minuti circa ok quindi vi è chiaro questo modo di comporre il glossy con la texture si ah si le mattonelle di un bagno potrebbero farlo questo mestiere però il muro vero magari fa qualcosa così vedete che fa un leggero riflesso e quindi va bene allora per andare avanti introduciamo ancora l'ultima cosa che era la normal map e la normal map lo facciamo quindi allontaniamo un pochino queste cose mi sembra che si fa da più c'era un modo c'era un modo per renderlo piccolo adesso non mi ricordo più com'è comunque lo troverò e ve lo faccio vedere aggiungiamo un'altra texture shift d ah però non era esattamente questo che volevo fare ah tra l'altro ecco qua una cosa che volevo dire è che se vuoi premete il se vuoi clic cliccate mi sembra che con lo shift vi compare una sorta di coltello che vi no no contro si contro contro ecco se prende questo qui però cos'è successo di questo vabbè via dicevo se volete tagliare un pezzo potete premere contro e vi appare il coltellino e con quello potete cancellare una in alto a sinistra ecco bravo ok bravo grazie quindi potete usare il triangolino per rendere un pochino meno invasivo i vostri oggettini grazie Lucy allora adesso prendiamo quindi abbiamo le quindi queste qua sono praticamente le cose che abbiamo fatto per il diffuse e se vogliamo mettere invece la normal map allora la normal map vogliamo utilizzarla attaccata ai punti blu questi qua no vedete che i punti blu in realtà sono quelli dei dei shader quindi dobbiamo prendere i nostri anche questo possiamo restringerlo anzi questo in particolare ok questo qui diciamo è la struttura che fa già meno impressione vista così quindi possiamo anche arrivarsi vicino dobbiamo trasformare l'immagine che ci rappresenta la normal map quindi andiamo qua carichiamo la normal map eccola qua la associamo a questa image texture normal map dunque le mie fonti i miei la mia sacra bibbia dice che nel caso in cui non sia un colore vero occorre mettergli non color data i motivi per cui Zeus ci fulmina se non lo facciamo non mi sono ancora chiari ma il tipo che lo insegna credo che abbia sofferto qualche brutto abbia ancora il sangue attaccato quindi quando non sono dei veri propri colori conviene di solito mettere non color comunque adesso vediamo un po' cosa succede perché secondo me come facciamo noi adesso dovrebbe andare bene lo stesso nel senso che noi prendiamo questa immagine della nostra texture e andiamo a cercare quelle che sono le normal map quindi cosa facciamo andiamo in add search e cerchiamo normal abbiamo normal map questo spero ecco si sembra lui vedete che c'ha in input accetta un colore giallo non so se notate ma noi stiamo andando verde con verde verde con verde giallo con giallo giallo con giallo quindi accetta un colore e in uscita ci esce fuori una normale quindi questa normale possiamo metterla nella diffuse vedete che è già cambiato il nostro il nostro cosino possiamo mettere anche sul glossy e anche il glossy diventa improvvisamente molto più espressivo e qui possiamo anche restringere restringere e avere un diagramma infatti così quindi vedete che questa struttura fondamentalmente parte da tre immagini vedete che queste sono tre immagini allora un'immagine viene usata questa immagine va sul diffuse questa è l'immagine speculare che va sul glossy il diffuse e il glossy vengono mixati per ottenere il materiale e invece la normal map viene usata per pilotare questi due shader questo è diciamo il sostanzialmente l'essenza del di quello che vi piacerebbe che voi percepiate insomma dalla seconda sessione come vi sembra questa questo modo di di diciamo di questo node editor diciamo che ecco lui si dice perché lei è stata morsa evidentemente da node editor allora nel già in realtà nei video che vi ho fatto vedere si ah tra l'altro c'è anche un altro modo non so se riesco a fare cioè se volendo si può selezionare aspetta dove si possono con B si possono selezionare un insieme di nodi tipo questi e poi dovrebbe esserci un sistema per raggrupparli make group questo 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 è un sistema per praticamente per dire se voglio rifare un gruppo simile dall'altra parte che abbia le stesse caratteristiche no perché devo mettermi a ricreare tutti i nodi basterebbe semplicemente fare il dove hai visto allora make control g vedete che viene viene di fatto creato una specie di di super gruppo che ha come ingressi tre cose gialle e come uscita esce con un verde facendo tab praticamente si ha praticamente questo super gruppo a cui è possibile eventualmente dargli un nome comunque facciamo un gruppo questo era solo per i più per i più coraggiosi l'idea è di l'idea che dovete capire fondamentalmente questa allora ci sono librerie di materiali alcune sono a pagamento nel senso che chi ci sono delle persone che sono messe a fare dei materiali con 400 nodi a materiale e magari per farli hanno dovuto lavorarci per magari mesi no ma delle settimane probabile e allora vi danno questi nodi e magari ve li danno cercando anche di portarsi a casa una birra insomma cosiddetta quindi esistono questi di fatto vengono oppure o ci sono dei materiali open source che si trovano comunque in giro sono fondamentalmente delle librerie di materiali oppure siete anche voi che magari con l'andare del tempo vi costruite dei materiali che vi piacciono e quando poi volete costruire un nuovo un nuovo castello magari non ci avete voglia di mettervi lì a spendere quattro ore per farvi l'effetto diciamo scantinato perché magari l'avete già fatto cinque volte nel progetto precedente e quindi volete prenderlo da una libreria in quel caso lì basta prendere basta costruire tutto il materiale in un file punto blend e poi esiste la possibilità da da blender proprio qua ci sono link e append sono due comandi che permettono di andare a pescare dei vedete append from a library blend file e link è invece link from a library blend file allora la differenza tra link e append è che è uno adesso non chiedetemi quale credo che sia il link appende dal punto blend originario e se si cambia il punto blend originario in qualche modo lui si 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 aggiusta e invece l'appende credo che si ricopi semplicemente nel blend finale la struttura dei nodi ad esempio degli oggetti praticamente con link append si possono appendere non soltanto materiali ma anche oggetti già fatti perché il discorso in blender è che magari voi avete già fatto che ne sono una ruota magari già anche con tutti i suoi nodi con tutti i suoi materiali con tutti i suoi pioni e poi quando volete farlo in un altro progetto volete poi prendere la ruota dell'altro progetto e questo si fa con una sorta di qui lo chiama append o link in realtà per chi programma questa è una sorta di include cioè si ricicla il lavoro fatto in un altro progetto adesso però nelle lezioni che facciamo noi non lo facciamo vedere queste tecniche tra l'altro non le usate in maniera molto massiva però chi di voi fosse interessato a farlo o si cerca lui autonomamente oppure magari facciamo anche insieme qualche piccola ricerca per vedere queste librerie altre domande? niente non saprei la risposta di pack credo che per rispondere a pack bisognerà trovarlo magari quando ti provi adesso che fai anche un po' di esperimenti ce lo dirai tu diciamo il wrangler l'ho scoperto anch'io da poco ed il wrangler io ho scoperto soltanto infatti anch'io ho avuto anche dubbio a capire la domanda comunque poi ce lo spiegherà lui non appena l'avrà trovato il sistema non preoccupatevi l'ultimo nodo cosa intende per l'ultimo nodo il domanda di pack magari la sospendiamo un attimo ma proviamo a rispondere a mad creator che vediamo un po' cosa ha domandato quando faccio render usa la visuale della camera è possibile usare altre visual top left eccetera allora sulla visuale della camera c'è da dire una cosa che forse non abbiamo mai visto prima possiamo provare a approfittarne adesso quindi chiudiamo un attimo il vediamo se riesco a togliere i nodi che tanto non no volevo togliere il nodo ne ho aggiunti ecco questo è quello che dico che secondo me non è proprio il massimo questa interfaccia io voglio far fuori questi nodi invece me ne sta generando sempre di più ah aiuto se no non dovrebbe farlo così no non lo fa vabbè teniamo facciamoci queste cose qua pazienza ah le due schermate questa e questa eh sì però già anche qua è un po' un massacro da chiudere vabbè sentitelo anzi facciamo magari così dunque posso andare nella non nella default vabbè me lo tengo così per il momento perché se no mi sconfondo è un po' macchinosa infatti mi aspetto che la rifaccio meglio tenete conto che rispetto alla schermata che c'era nella 249 questa è miracolosamente ah sì ho capito forse cosa devo fare devo prima chiudere questa e poi adesso eccolo qua perfetto eh avete capito perché la odio questa interfaccia wow ok adesso ho ottenuto più o meno quello che volevo cioè di vedere semplicemente la mia cosa vedete quanto è carina allora qualcuno mi sta domandando e questa è una domanda che è interessante come fare a cambiare la visuale della telecamera allora ci sono parecchi modi ma il modo più che secondo me è più umano anche se forse un pochino allora il modo teorico innanzitutto sarebbe quello di andare in una visuale ah così non fa ah sì perché non ce la fa vabbè il modo più umano sarebbe in realtà di andare sulla ah no dobbiamo prendere proprio questo di andare dove c'è la telecamera e muovere la telecamera in modo tale da riprendere quello che si vuole no visto che però è un casino perché spostare la telecamera e sperare e sperare e sperare che la telecamera inquadri quello che vogliamo allora hanno inventato credo della 274 un comando che mi sembra che sia mi ricordo se 0 del tastorino numerico ok 0 del tastorino numerico che permette di vedere che cosa sta vedendo la telecamera quindi se voi promette 0 del tastorino numerico mi fa vedere che cosa vede la telecamera e quindi di conseguenza cosa state cosa sta diciamo cosa uscirebbe se faceste il render infatti se voi vedete io faccio il render adesso render render image vedete che tengo esattamente quello che ho visto prima ok però anche qua non è molto chiaro come spostarla no la telecamera quindi per spostarlo il trucco è quello di andare nella costola di destra e qui cercare disperatamente il lock camera to view allora quando avete lock camera to view vuol dire che se voi mi muove centrate di fatto potete scegliere l'inquadratura e magari a questo punto selezioniamo la sfera e quindi possiamo ruotare attorno alla sfera la inquadriamo e così vedete che possiamo mi sembra che se facciamo S no S fa lui ah però possiamo fare selezionare la camera c'era un trucco no vabbè tenetevi questa cosa qua comunque in questo modo voi potete controllare con esattezza l'inquadratura c'è un modo l'avevo trovato per riuscire a ingrandire questo mirino però comunque così è già diciamo tanto di guadagnato vi piace questo trucchetto tra l'altro facendo così vi rendete conto della potenza del rendering che sta facendo perché vedete che a questo punto il materiale ve lo ripeto magari qua il trucco per farlo dovete fare 0 del non pad quindi chiamiamolo non pad 0 non pad 0 non pad 0 permette di vedere cosa vede la telecamera e poi invece abbiamo il lock to questo qui che non trovo mai ah sì perché bisogna non essere sull'immagine bisogna essere qua e abbiamo il lock camera to view lock camera to view ok poi non so se mi sono perso altre domande in mezzo c'era qualche domanda che a parte quella di Pac che magari la vediamo un attimo con lui e poi ve la allora io direi visto che visto che non sento folle di domande beh vi faccio soltanto la prima cosa avete capito tutti cosa dovete fare come esercizi per il 24 maggio sì in realtà gli esercizi una volta capiti questi tre concetti credo che non dovrebbero essere così complicati probabilmente sono forse più facili della fatica che avete fatto per la prima sessione perché la prima volta che siete entrati in Blender avete dovuto scontrarvi con Blender proprio quindi adesso con i nodi è vero è vero che i nodi sono abbastanza complessi però non dovreste trovare dei problemi enormi credo ma in ogni caso se anche doveste trovare qualche problema magari chiedete chiedete i tutor chiedete a me chiedete sul facebook no allora la texture con scacchiera in realtà dovreste sempre usarla quando texturizzate in degli oggetti diversi ma che hanno lo stesso materiale cioè vi spiego se voi avete come nel caso della stazionata voi avete fatto tre oggetti no ci avete diviso la stazionata negli assi orizzontali negli assi verticali e nell'asse diagonale no allora in quel caso lì avevate tre oggetti che condividevano lo stesso materiale allora in quel caso se non usavate il trucco della texture a quadretti rischiavate di mettere delle uvmap cioè di fare le uvmap che magari singolarmente avrebbero texturizzato la stazionata bene ma che poi non stavano bene assieme non so se è chiaro cioè sarebbero avvenuto magari un legno con una venatura enorme in uno e la stessa venatura sarebbe venuta però molto fine nell'altro pezzo non so se è chiaro come effetto quindi praticamente il discorso delle quadrettature serve solo per permettervi di sincronizzare fra di loro le uvmap di oggetti diversi che hanno lo stesso materiale ma a volte anche materiali diversi insomma dipende da come lo uso ok dicevo nel buonanotte fanni noi adesso comunque finiamo i compiti per la seconda sessione sono comunque fondamentalmente tre e sono quelli che ho catalogato come adesso vi scrivo anche qua quindi sono il primo è il node editor in action in cui dovete consegnare la palizzata dove si veda possibilmente un pochino di rilievo e un pochino di abbiamo detto luccicantezza shining luccicchio il secondo compito invece è quello di fare una foglia quindi ricordate che nel video vi ho fatto vedere come fare la foglia come renderla trasparente e come anche piegare la foglia in modo tale da sembrare molto realistica e lì potete usare anche delle foglie diverse da quelle che ho dato io su facebook ho pubblicato anche un database dove ci sono un sacco di texto di altre foglie non le ho provate ma suppongo che funzioni e poi nel terzo esperimento invece era giocare insomma con una sfera per costruire il muschio tra l'altro ho visto che parecchi di voi l'hanno fatto già parecchi due o tre almeno l'ho visto quindi essi sono anche divertiti parecchio e una volta mi sentite e qualcuno dice dice no stavo dicendo quindi tre esperimenti quindi tre esercizi sono questi voi fate fin dove riuscite ad arrivare e cos'altro dire cioè c'è tempo fino al 24 di maggio quindi io da oggi adesso magari finisco di correggere i compiti che mi sono arrivati oggi che sono arrivati